con la soluzione delle equazioni di Richards. In particolare una cosa che ancora non sappiamo come trattare è come determinare i parametri che compaiono nell'equazione di Richards. Parametri che vi ricordo nel nostro caso sono la conducibilità idraulica, saturazione, θr, il valore del contenuto d'acqua residuo, θ con s, ovvero la porosità, o φ con s, come l'ho chiamato, m, n e α che sono parametri che entrano alle curve di Wangen-Ukten. E sono questi che vedete rappresentati qui, nella descrizione delle equazioni di Richards. Beh, l'idea è che questi parametri si possono far dipendere in qualche modo dalla tessitura dei suoli, dalla presenza di sostanza organica ed eventualmente anche dalla struttura dei suoli. Quello che quindi è stato fatto nel corso degli ultimi, vorrei dire, 40 anni ormai, è stato quello di prendere dei campioni di suolo, di andare a misurare per esempio i parametri di questi campioni nel caso dell'infiltrazione, cioè si è fatta infiltrazione in questi piccoli pezzi di campioni in laboratorio e si sono andati a misurare i parametri, andando a misurare contemporaneamente per esempio il contenuto d'acqua e θw e poi interpolando a seconda dei vari contenuti d'acqua e delle varie soluzioni i valori dei parametri. Tutto questo è stato messo in tabelle come questa che vedete rappresentata qui che è una tabella relativamente storica in cui viene riportata, come vedete in questo caso la tabella vi dà la conducibilità idraulica a saturazione nella riga in mezzo in centimetri all'ora sulla base di che cosa? Della percentuale di argilla che è riportata sulla destra e della densità apparente, si chiama in italiano bulk density in inglese e della densità del suolo. Questo è un primo esempio di quello che si chiamano pedotransfer functions o pedofunzioni in italiano. Questa è un'altra tabella di questo tipo per esempio sono riportate le classi di tessitura in questo caso anche il tipo di orizzonte a cui appartengono per esempio A, B e C sapete che gli orizzonti A, B e C sono così nominati a partire dall'alto verso il basso e in particolare in funzione del tipo di tessitura sono dati teta con S e teta con R il coefficiente alfa che qui è chiamato A e il coefficiente N di Wangen-Ukten. Questi naturalmente sono tutti dati sperimentali e le classi di tessitura qui sono è ovvio delle indicazioni relativamente generiche della composizione del nostro suolo sia perché la tessitura di per sé è un indicatore generico e non è la distribuzione dei pori sia perché dopo appunto una medium sand rimane comunque vincolata ad un intervallo di valori di nuovo altre tabelle in questo caso come vedete le tabelle si fanno sempre più complesse partono sempre dalle classi tessiturali sulla sinistra in questo caso viene data anche la total porosity e via via e in alcuni casi in questo caso in questa presente tabella di roles vengono date anche degli intervalli di valori ancora tabelle quindi per dirvi che ci sono varie varie tabelle di questo tipo varie pedotransfer function che nel corso del tempo si sono poi cercate anche di come dire classificare ricostruire queste pedotransfer function è generalmente un'operazione onerosa perché appunto voi dovete prendere dei campioni oppure si possono fare anche delle misure in campo perché quando voi prendete dei campioni e li portate in laboratorio rimanete poi sempre con l'idea che questo questo possa anche non funzionare correttamente cioè che il campione venga alterato e che voi non riportiate le caratteristiche che il vostro suolo ha in campo Ungaro e Calzolare in una ventina di anni fa hanno provato a fare queste classificazioni da livello 1 a livello 5 in cui le frazioni granulometriche per esempio vengono anche riportate con maggiori con maggiori precisione ma noi come faremo beh noi useremo un software però per farvi capire come funzionano questi software vi do vi propongo alcuni esempi qui per esempio il più semplice è una regressione lineare dove A, B, C D, E ed F sono dei coefficienti che funzionano con il percentuale di sabbia e di limo di argilla di sostanza organica e di densità apparente cioè si sono presi dei campioni si sono misurate per ogni parametro le caratteristiche e poi avendolo fatto su tantissimi campioni si sono andati a interpolare questi parametri una semplice interpolazione lineare in questo caso Rawls propone anche qui coefficienti quindi voi dotati di buona volontà prendete i dati di Rawls che hanno ormai una quarantina di anni e potete usare questi valori noi invece useremo di nuovo qui si ritorna sulle tabelle qui Nemes nel 2006 produce delle altre interpolazioni in particolare qui produce già i coefficienti delle rette e anche questi potrebbero essere da voi implementati implementare queste funzioni è piuttosto semplice con un software qualsiasi in particolare anche con Python che poi voi userete ma noi potremmo usare sia per esempio questa di Nemes del 2006 in cui vengono assegnati i valori però dovremo poi possedere le classi tessiturali che compaiono all'interno di queste equazioni oppure vi verrà anche dato un software che si chiama Rosetta che è stato sviluppato da Wangen, Huck, Simunen e collaboratori e questo software funziona in modo un po' differente invece di fare una regressione lineare o quadratica come accade qui in alcuni casi in funzione delle caratteristiche dei suoli utilizza dei metodi statistici un po' complicati che si chiama metodi statistici di machine learning che sono codificati internamente al software quindi però noi ci troviamo un po' con questo problema già risolto entriamo con le classi tessiturali il nostro software ci dà i valori e le espressioni che noi cerchiamo e quindi abbiamo risolto anche questo problema ma Grazie.